Et voilà, signori e signore, arribenvenuti, tutto a posto, non sto guardando se è tutto regolare. Sì, sono tornato dopo due settimane, perché dopo l'episodio a quattro giocatori pensavo di dover fare delle cose, insomma avevo già programmato dei giochi, poi c'è stato il Rimini Comics, infatti chissà, magari c'era qualche fans che mi conosce e voleva fare qualche partita, io ero contento, vabbè. E che dire, intanto non mi conosce nessuno, per ora, vabbè, non è quello l'importante. L'importante cos'è? Il retro gaming che noi andremo a giocare. Scusate un po' questa luce dietro all'illuminazione, quella che è, ho dovuto risistemare la telecamera, eccetera, perché ho dovuto impostare altre cose, perché qua ci lavoro anche come disegno. Allora metto la chat e torniamo in pompa magna con Vigilante, un altro gioco della Irem o Irem, anche se Taito fa 70 anni, stiamo giocando solo giochi Irem praticamente, abbiamo fatto anche in The Hunt, se non sbaglio, perché già mi sono scordato quelli che abbiamo fatto insieme. E volevo dirvi, un mio amico peraltro mi ha consigliato di dire questo all'inizio dei video, allora voi potete recuperare tutti gli episodi indifferita sull'omonimo canale YouTube, chiaramente, c'è tutto il link nel profilo Twitch, eccetera, però allo stesso tempo se voi state vedendo da YouTube, iscrivetevi a Twitch che mi fa molto comodo, ripeto, insomma, se volete supportare questi progetti indipendenti, se non volete non importa, fate quello che vi pare, giustamente, siamo liberi di fare. Quindi oggi Vigilante, 1988, della Irem, potrebbe essere, aspetta, stavo leggendo una cosa interessante, no, niente di che, della Irem, perché Data East? Ah, perché è stato pubblicato dalla Data East, mentre, ecco, esatto, infatti vedevo nel Bezel, questo Bezel adesso lo togliamo perché sarebbe molto scomodo giocarci, l'anno successivo, quindi 1989, fu pubblicato anche in diverse console, quindi Amiga, Commodore e Master System. La versione Master System, cos'è che aveva? Avevo letto una cosa molto bella, non mi ricordo, ah no, cambia solo il nome della ragazza che salveremo, perché qual è la trama del gioco, interessantissima, intanto avvio, che mentre spiego, il Bezel l'avete visto, lo tolgo, noi siamo un esperto, credo, di arti marziali, ok, 4 terzi perché 128 per, e, ah no, aspetta, qual è quello, no, io gioco 4 terzi e quello Canon, in teoria, ok. Siamo un vigilante, esperto di arti marziali, andremo a salvare niente poco di meno che, Madonna, la cantante, voi direte, perché da chi poi? Rapita da degli skinhead, così. Ecco, questo è il gioco, è un po' un seguito spirituale di Kung Fu Master, sempre della Irem, perché il gameplay, come potete vedere, è molto simile, abbiamo due tasti, uno per i pugni, uno per i calci, i nemici arrivano a ferotte, sia da destra che da sinistra, lo scorrimento, a differenza di Kung Fu Master, vabbè, Kung Fu Master cambiava ogni piano, Kung Fu Master è quello famoso, perché era tratto da un film, detto anche Spartan X, il gioco, il film era, cioè, è un po' complicata, perché, non questo, è Kung Fu Master, il suo predecessore, era ispirato all'ultimo combattimento di Chen, come design dei personaggi e dei boss, ma invece è stato pubblicato ufficialmente come tie-in di un altro film che si chiama, mi sa, il mistero del conte Lobos, se non sbaglio, l'ho letto prima, perché io pensavo, che quello con Jackie Chan, io pensavo fosse direttamente preso da quello, invece non è vero. Benissimo, inseriamo i crediti e andiamo a salvare Madonna dagli skinhead. Maria nella versione Master System. Chi è che è successo qualcosa? No, abbiamo la dashboard. Benissimo, let's go. Ecco, esatto, proprio ufficiale, però Madonna si dice che non sappia di questa cosa, nel senso, loro hanno scritto una can... Madonna, non so, una VIP. Vabbè, non è molto difficile, devo stare a te, è molto di timing questo gioco. Io sono super scarso, eh. Ecco, è già... È già, lo stavo sgarrando. Oh, e di quando ti... Ecco, per dire... Quando è così... Oh, ma già sono arrivati questi? Poi abbiamo il Nunchaku, che si usa col tasto del pugno, che ha un range molto potente. Abbiamo usato proprio in maniera grezza. Poi mi ricorda che stasera ho l'esame di Kung Fu. Infatti ha le stesse mie scarpette. Poi lui è un vigilante, non è proprio vestito da... Però sicuramente è un esperto di arti marziali. Lo scorcellatore folle è fortissimo. Perfetto. Sarai curioso di vedere com'è la versione Master System, perché io sono un grande amante delle console Sega. Infatti ne ho ben due, ho sia il Mega Drive giapponese, che il Mega Drive 2 europeo, donatomi da un amico, perché, non so, in un momento di pazzia. E diversi giochi, quindi quando cerco dei giocarelli, li cerco... O europei, o... O giapponesi. Tanto li posso giocare entrambi. Oh, quanto è tosto questo? No, vabbè, dai, questo... Poi c'è anche il salto, noi possiamo... Perché su Kung Fu Master il calcio aveva più range, ma ti dava meno punti. E... No, pistolata? Dai, ma... Cioè, tipo, non puoi fare una roba del gi... Guarda che roba, tanto... Cioè... Cioè, tu non ce la fai a prenderlo, mentre lui sì, ma come devo fare? Questo anche è forte, ma... Ok... Questa è quasi una blind run, cioè, questo gioco è famosissimo, l'ho visto cento volte, ma... Chi c'è a battantuono come boss, non ho capito. Ah, ok, i boss hanno la peculiarità che si ricaricano la vita, però... In teoria, se noi andiamo in combo... Non... Vedi? Ma che caspita! Allora... Vedi? Io dovrei colpirlo e indietreggiare... E usare... Di rimbalzo... Questo... Per farlo proprio no damage, se uno vorrebbe... Poi è la mia prima volta. Mi piace molto che gli sprite non hanno l'outliner, ma ce l'hanno solo da un lato, come per indicare un'ombra... Un'ombra forte, infatti... Come se la luce venisse... Ah, da davanti. Dai, a battantuono è stato abbattuto. Poi in verità, se tu non ti sbrighi a finire il livello, arrivano altri tag, se non sbaglio. Infatti, oh... Oh, posto. E... E qua. Raggiungiamo Madonna. Abbiamo quattro spettatori. La chat dov'è, sinceramente? L'ho lasciata di qui. No, non l'ho lasciata. Sono uno stonto. No, era di qua. Se qualcuno ha scritto qualcosa, non l'ho visto. Faccio un refresh totale. Ah, no. Qualcuno ha scritto. Ah, e tanto vuole. Ciao. Oh, carica miseria. Per leggere mi stavo drenando la vita, ma non importa, tanto abbiamo crediti infiniti. Oh, bellissima... Questo scenario... Cos'è? Siamo a New York, se non sbaglio. L'ho detto che le versioni console sono tutte fatte da US Gold, che è quella famosa... Ecco, questo è il boncatore da sopra. Famosa marca che faceva un sacco di roba al tempo. Adesso non si sente più. Ah, ma cavolo, tutta la vita. Perché se tu perdi, un attimo, il timing... Eh, un attimo, qui, eh. Vabbè, io vado così... Sto safe. No! No! Comunque ho tolto il bezel, perché questi bezel ufficiali, no, le illustrazioni attorno al cabinato sono molto confusionari. Quindi, come dicevo, ho fatto una pausa di due settimane per varie cose, ho avuto da fare anche mille affari tra passaporti, macchina e robe varie. Ci ho avuto da fare. E mi dispiace, perché è un format... è il format di punta. Ok. Perfetto. È un ritming game, praticamente. Il boncatore dall'alto. No! Ma lui, tipo, se lo salto... Vabbè, posso fare addirittura dei rimbalzi particolari. Non l'ho visto, infatti, in verità, anche l'altro commento. Mi pare sia da una persona differente. Adesso, tra un po' guardo, eh. Ah dai, ma questo toglie proprio una sbaccola. Ok. Ah no, volevo provare il pugno aereo, ma è controproducente. Ah! Il doppio boss. Qua qual è il trick? Esatto. Meglio che stiano nella stessa... Ma io... Ecco. Prima di farmi colcare di bastardo. Comunque, gli sprite a me sono molto belli, perché sono puliti, hanno stout liner gustoso, poi sono abbastanza diversificati, hanno delle proporzioni simpatiche, oserei dire. Lui è fighissimo. Potrei essere io quando diventerò master dei kung fu, praticamente, a capelli corti. Infatti, io da grande voglio diventare vigilante della Irem, è sempre stata la mia aspirazione. di sempre, allora. Però armi solo il nunchaku, mi pare c'è, perché mi sto confondendo con Bad Dude vs Dragon Ninja, che lì c'erano diverse armi, però anche lì è molto figo. Eh, sì. No, in realtà ho detto, sprite puliti in un gioco Irem, sto vaneggiando, forse, no, però comunque, nel senso, mi hanno dato l'idea di un, insomma, hanno delle ombre molto leggeri, a parte l'outliner finale, sicuramente molto diversi, lo stile da Undercover Cops che abbiamo visto. Allora, vi farei così. Ah, mi posso voltare in volo? No. Però mi ricordo, sì, faccio, mi ricordo, nel senso, per quello che ho visto, sì. Oh, perfetto. Perfetto. Bene. E Madonna, fugge ancora. Ah, Tommy è corretto visto adesso, perché ho la chat, che è piccolissima. Stanno portando, Madonna, al ponte. Il tempo sta per finire. con questo New York. Oh, no, ecco appunto, questi devo farli in volo, sicuramente. Perfetto. No, l'esplosione, vabbè, era ovvio che mi facesse male, ma... troppo bello sto skyline, lo voglio riproporre, aia. che trick, che trick, che trick. Ah. No. vabbè, è un attimo, è che qua ti prendono. Ho messo un attimo un po' di crediti. Ah, scusciottato. Ah, schivo le pallottole, come su... Il mio nome è Remo Williams, film che ho visto l'altra sera, abbastanza carino. che parla un po' di arti marziali, ma poco, cioè alla fine c'è questo maestro coreano che insegna a schivare le pallottore al protagonista. Un film che parla della apartheid militare, fondamentalmente. Ah. Il panchettone classic. Eh, ma qua è dura adesso. Eh, sì. Ma lui mi inseguirà per sempre? La situazione è un po' intricata. È fuggito per sempre, ma avrà finito le munizioni, no? Ah, sì, un'altra. No, qui conviene che avanzo, se no finiamo più, eh. Questa colonna di quinta la devo superare. Il trucco è avanzare sempre. Non c'è alcuni zebedei. Bellissimo la stance di quando sta sdraiato. Questa è la posizione del gatto, quando sta in piedi con il nonciaco. Così ripasso anche per stasera che ho l'esame. una posizione di umà. Eccola. Ecco, infatti, per vedere ste cazzate, mi sciotta. Let's go. Però molto accurato, bello. Ah, le torri gemelle che c'erano, quindi, questo gioco è questo, con la bolas. Fammi vedere. Allora io faccio una combo e poi mi allontano. Ah no, l'ha finita già. Ok, lui si para, però io se faccio classic combo calcio aereo e basso, sì, funziona. E poi mi ha bloccato, io posso salire qua, no? Sì, però così sono super bloccato, come faccio? Ah no, questa posizione mi costringe ah no, posso allontanarlo così? Ecco, ho sbagliato il timing. Faccio una combo gratuita. Spero si senta tutto bene, perché io ho settato il microfono, però se non mi avete detto niente, mi fido che si senta tutto al top. Tutta la vita, porca miseria. Dai, l'ho schivata. E approfitto dell'invulnerabilità per seccarlo. Cioè, qui si sembra che aspettano a me, ma voi fuggite con la prigioniera. You still have not to rescue the skinheads are heading downtown, ok, nei soborghi, quindi ci siamo, questo gioco comunque è relativamente corto, questo infatti vedi, è parcheggiato il furgone, ma do lo scorcellatore folle che odio, mi fa salire un crimine infinito. o grazie, tanto cuore. Comunque ho visto il video di Street Fighter 6, tanto cuore. Comunque, come ci stai giocando? io ancora no, perché volevo un po' aspettare, sinceramente, anche se ho una voglia matta, perché voglio fare il world tour col pupazzino personalizzato. Ci sarebbe fare un giorno un video su anche gli archetipi di picchiaduro, io ne sono abbastanza ferra, cioè, nel senso, mi piacerebbe farlo. Ho guadagnato una vita extra. Mi pare, cos'era quel suono? Sì, che ho perso subito. Cioè, è bello spawnare mentre quello mi strozza. Ok, che stavo controllando una cosa, perfetto. Quando sto circondato così, penso che non c'è modo di salvarsi. Aspetta, adesso leggo, ho visto un bel, ho letto Soulcalibur e già mi interessa. Dopo, ambe, addirittura, dopo la mia live di Soulcalibur, ho preso l'Arcade Stick. Spero che ti sia stato utile. Quello, quale hai preso? Io quello che c'ho mi fa impazzire, questo che sto usando è molto buono e devo dire che, cioè, non è che sono esperto di Arcade Stick, ecco, effetto, un attimo qui. Però, questo qui, con i componenti Sanua, che sono i migliori, non è male, cioè, un porto qualità-prezzo non è, ha fatto male. Poi ci puoi giocare anche sulla Play, abbastanza figo, però sulla Play lo devi attaccare al pad, quindi non puoi usare le cuffie, tipo, una volta volevo parlare con gli amici miei e non riuscivo, vabbè. Però, per giocare così sui emulatori, sulla Switch, una bomba. Come non sei la persona più ferata? Vabbè, comunque, c'è tempo per imparare e apprendere. Esatto, hai lo stesso mio, però, tipo, ho l'Elite che cambiano solo i componenti, che, hai fatto, cioè, secondo me hai fatto bene, adesso non vorrei essere responsabile di acquisti altrui, però, secondo me, hai fatto bene, ecco, perché è molto, cioè, il rapporto qualità-prezzo per me è ottimale, non, la Mei Flash neanche mi paga, ci tengo a dire. Vabbè, ci mancherebbe. Questo com'è che dovevo fare? Lui dovrebbe, è venire giù a una certa, no, quei pugni lo prendo. perfetto. Comunque, adesso, prossimo episodio, facciamo un bel picchiaduro, adesso che mi hai fatto venire voi, perché i picchiaduro tendono a non portarli, perché magari, non so, si potrebbe fare qualche torneino, però ce n'ho uno, bello, un bel po', che dai, ce lo facciamo la prossima volta. Comunque, veramente, vi ringrazio del supporto, assolutamente, io non è che lo faccio per soldi, perché è un... Poi certo, se uno si iscrive, mi fa diventare partner di Twitch, mi aiuta a supportare questo progetto, non ne fa schifo, chiaramente, però nel senso, è solo per condividere questa hobby, no? Che un po' ci ho investito, però non è che ci de... nel senso, io ho già le mie cose, le mie entrate, quindi non è che... solo per condividere questa passione, un po' che ci ha comune. Questo c'ha lo stesso... Beh, è lo stesso sprite di prima, quindi devo stare un po' attento. Io approvo. No, no, ci sta, infatti. Se uno gli dà gusto, se si ritaglia quel momento, ma poi penso che, almeno io che sono di quelli, mi considero uno stream un po' underground, cioè che fa queste cose, come anche alcuni ragazzi che seguo, tipo i ragazzi di Kenobi, sboccio My World, che è sto ragazzo bravissimo, Luca, si mi pare, si chiami, che fa sti giochi, tipo questo vigilante, lui l'ha fatto senza mai morire, ovviamente, perché è super bravo. Cioè loro, tipo, non è... non penso che campino di quello, ma... si divertono. Qua devo salire qua, vieni, sì. E... insomma, per condividere queste cose. anche perché poi, se mi posso permettere di dire, ci sono youtuber che magari non conoscono nulla dei giochi, ma perché il loro mestiere non è spiegare il gioco, ma intrattenere. Ecco, questo è l'ultimo livello che saliamo nel palazzo. Quelli sono youtuber che amo io di intrattenimento, che giocano magari al gioco del momento, per farse do risate, magari viene visto dai più piccolini, ecco, sbagliato. Ma a me sinceramente non interessa quel tipo di... di situation. No, guarda che infamone questo. Comunque, pochi sprite, ma fatti bene, differenziati, mi piace. Sempre questa palette molto grigiosa, molto culpa, molto irem. Lui mi piace assai, cioè che ha questi braccialetti rossastri. Aspetta, fa un attimo, devo riconcentrarmi. No, ma voi scrivete, che a me fa super piacere parlare di queste cose. Il bunker, il boncatore della Ornipolis. c'è gli sprite più forti del gioco messi insieme. Lui con la catena, Luke Cage, praticamente, con la barba e il pistolettatore folle. Qui c'è il punk a bestia, che è un classicone degli anni 80. Lo scorcellatore, no, qua è un ottimo. va bene, va bene Tommy, tanto comunque siamo, in verità, non so se fa in tempo, perché siamo quasi al boss finale, ma ci sta, tanto, io ho una fame, dopo vado a pranzo, poi mi ripasso qualcosa per Kung Fu stasera, eccetera. No. Perché una volta scorcellato, non può neanche indietreggiare. Ok. Poi il boss finale era ispirato a un tipo, ma non mi ricordo chi, a me pare, opa, terminato. Oh. Ah no, mi dovevo aggrappare. Ah, ok. Oh. No, bifidissima sta situation. Qua devo sollevarmi subito. Devo stare molto attento, perché comunque, lui si rigenera parecchio la vita. No. Se mi prende in counter, è la fine. Lo devo, lo devo baitare. Ok. Ok, dopo tre non fa più, dice la sua imprecazione, poi posso, forse attaccarlo. Così si farebbe in un modo de' cieco, non così, più o meno avete capito, quindi. Via, via. No, eh no, sono stato troppo aggressivo. Tom Jones. Tom Jones. Oddio, c'è uno svarione, Tom Jones? Chi è? ah, 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 Stavo per dire che film ha fatto Dopo il cantante No aspetta devo un attimo capire Ok Finchè lo prende No ho sbagliato salto Ok Sex Ah lui ok si si Sono un po' ignorantello in materia Ok mi sa che tu potevi fare calcio No proprio perché mi rimbalza Però proviamo una cosa giusto Perché tanto Vinceremo sicuramente però Niente Io se vado di calcio No quando dice l'imprecazione Devo aspettare un po' No Devo capire nuove tecniche Sto un po' sperimentando per capire No allora C'è madonna lì appesa Niente mi prende in counter con la stivalata Poi lui si ricarica Devo stare anche un po' attento Io mi ricordo quando l'ho visto giocare Era possibile Fargli una combo per intera Vedi però Ok Adesso lui darà il calcio Gli arrivo quasi all'alte No volevo provare Arrivare all'altezza mano Niente Niente Ok madonna Subiti eh No ok Devo saltare un po' prima Perché si salta con su Quindi io vado in diagonale alta Basta 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 Ok Ok Adesso devo colpire questa cosa qui Ah non fa da solo Bene abbiamo salvato madonna Adesso parte Like a Virgine In verità non è vero Non gli assomiglia tanto a madonna È un po' Un po' diversa Allora Abbiamo Può far dire che Tutti i skinhead C'erano tutti i capelli Non c'era nessuno skinhead Alla fine dei conti Non so se anche politicamente Erano schierati questi Ma non ci interessa Per essere dei rozzi rapitori Eh no esatto Ne sanno Law and order failed But the vigilante prevede Quindi qua ci insegna Che dove la legge fa il rischio Bisogna fare giustizia da solo Non lo fate a casa Scappate Se dovete Se dovete incontrare Dei malintenzionali Eh no esatto Ne sanno a pacchi questi Anche se sono rozzi Poi non si sa perché La devono rapire Forse per riscatto Non ci è dato sapere Comunque bene Dai sono contento Se vi è piaciuto Io un attimo metto pausa E vi saluto Grazie per chi c'è Per chi c'è stato E per chi ci sarà Ormai è la mia catchphrase Da un anno Questa parte E si può recuperare Indifferita su youtube Su youtube Se scrivete una cavolatina Sotto per far girare L'algoritmo Mi fa piacere Anche se Mi mette mi piace Chiedo troppo Perché ognuno fa Quello che gli pare Poi il mi piace Di youtube è particolare Dopo ti consigliano Cose strane Eccetera eccetera Grazie Speriamo bene Per l'esame Sì E niente Devo fare una forma Di bastone Dell'amantide Per curiosità Adesso non voglio Dire troppe cose Magari uno Vedrà il video Dice ma questo dice Le cose che studiano Va bene No non lo so Va bene Questo si può dire E niente dai Ci rivediamo Speriamo presto E domani C'ho da fare un sacco Forse domenica Un episodio Comunque dai Ci riprendiamo bene Vediamo cosa giocare Speriamo che anche I miei amici Tornino a fare Un episodio a quattro Qualche bel picchiaduro Cacciarone a quattro giocatori Infatti oggi ho scelto questo Perché si poteva Solo giocare da soli Solo in una versione Si poteva giocare Alternati Come in alcuni giochi Dell'epoca E buon Dai Ciao ragazzi Ci vediamo Alla prossima Bon 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 E vado a mangiare Ciao a tutti C'è una buona Grazie a tutti.